Il fenomeno Chiara Ferragni o dell'ego meringato che cresce ipertroficamente e vorticosamente su se stesso. La Ferragni sui social di fronte a milioni di seguaci parla 24 ore su 24 di se stessa e adesso viene invitata a Sanremo ove legge una lettera a se stessa in cui parla di se stessa, citando Max Stirner, l'unico e naturalmente la sua proprietà.